bombe di calciomercato serie b ragazzi ne ho raccolte un po' ve le vado a dire perché qua siamo molto molto caldi innanzitutto vi ringrazio per il supporto immenso al video precedente delle bombe di calciomercato serie b mi raccomando replicate tantissimi mi piace qui sotto una bella iscrizione ho notizie sul Cosenza, Cagliari, Brescia, Suttirol, Ternana, Parma, Regina, Venezia, Spal e Ascoli ne ho tantissime mi raccomando tantissimi mi piace iscriviti al canale e noi partiamo subito partiamo dal Cagliari la padula nel mirino primi sondaggi con il benevento per capire la situazione la padula è un obiettivo concreto visto anche l'arrivo di liverani a cagliari quindi sondaggio i primi sondaggi per la padula sono stati fatti dal ds capo zucca visto che davanti il cagliari dovrà fare una rivoluzione perché pavoletti in uscita e joe pedro in uscita quindi c'è bisogno di un centroavanti e Gianluca la padula sembra uno dei prescelti primi sondaggi per lui Cosenza l'ora verso la Turchia va in un club con un nome stranissimo Calubu penso che si chiami questo club qua perché Gaetan l'ora va verso la Turchia perché non verrà riscato dal Cosenza che l'aveva preso a gennaio al Paris FC non verrà riscato dal prestito e quindi Gaetan l'ora verso la Turchia non sono molto convinto di questa scelta del Cosenza perché l'ora l'ho visto giocare un po' di volte tecnicamente molto valido bisognava un attimo farlo crescere a livello tattico a livello delle scelte ma era un giocatore su cui io ci avrei puntato perché a livello tecnico ci stava molto bene in questo campione di Serie B però sembra verso la Turchia ormai sembra una trattativa molto ben avviata su Tirol su Tirol notizie molto fresche su Tirol che sono uscite quest'oggi con l'arrivo di Lamberto Zauli praticamente quasi tutto fatto da limare solo gli ultimi dettagli Zauli si dirà sulla panchina per l'appunto su Tirol arriva dalla Juventus Under 23 e questo comporta l'arrivo forse di tanti ragazzi che ha allenato Zauli l'anno scorso alla Juventus Under 23 nel Mirino ce ne sono ben tre Mattia Sule ci ho fatto un video ieri andatelo a vedere ragazzo talentosissimo argentino che può fare sicuramente bene in Serie B e può fare anche la differenza Anzoli in terzino e anche Nicolussi Cavia questi tre obiettivi non appena Zauli sarà ufficiale nella panchina su Tirol Sule esterno ma comunque può fare il trequartista secondo appunto può fare un po' di tutto là davanti Anzoli in terzino molto molto interessante che con Zauli ha fatto una buona stagione l'anno scorso in Under 23 e Anna Nicolussi Cavia che ha bisogno di riprendersi è un'esperienza in Serie B col su Tirol potrebbe farli molto bene quindi molto molto caldo anche il su Tirol visto che deve costruire una squadra valga per questa Serie B visto che è una squadra che comunque pecca un po' in alcuni reparti nonostante comunque l'ottimo campionato fatto l'anno scorso in Serie C ma c'è bisogno di grandi acquisti visto anche la partenza di Javorcic e visto l'arrivo di Zauli questi tre nomi sono molto 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 caldi teneteli a mente Sule Anzolin e Anna Nicolussi Cavia anche qualche piccolo sondaggio fatto per Marco da grassa anche lui allenato da Zauli in Under 23 l'anno scorso attaccante che ha avuto anche qualche presenza con la prima squadra della Juventus con la Juventus maggiore con Massimilio Nallegri in panchina qua c'è il fogliettino altre notizie molto molto fresche passiamo alla Regina ragazzi Regina è molto a rischio l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B si rischia grosso in questo momento nessuna offerta per quanto riguarda la cessione del club visto il presidente che ha qualche grande problema a livello personale con la situazione carcere questo è ancora ben capito comunque c'è grande rischio per l'iscrizione perché in questo momento nessuna offerta ufficiale fatta per acquisire il titolo sportivo della Regina e quindi la Regina rischia veramente di non far parte nel prossimo campionato di Serie B e in tal caso non ci fosse l'iscrizione della Regina sarebbe in Vicenza a prendere posto rispetto alla squadra calabrese che in questo momento rischia veramente forte l'iscrizione al prossimo campionato spostandoci anche sull'Ascoli Ascoli per la panchina avanza molto l'idea Bucchi, Cristian Bucchi avanza molto lui come idea sicuramente colloqui positivi nelle scorse ore dopo essere saltato in zaghi non per volontà dell'Ascoli ma per volontà dell'ex senatore di Benevento e Brescia in Serie B potrebbe arrivare per l'appunto Bucchi a me sinceramente è un nome che non scalda sarà anche fatto il nome di Corini addirittura dell'allenatore della Regina però Bucchi sembra quello più avviato a diventare il nuovo allenatore dell'Ascoli contatti in corso, trattativa in corso comunque c'è volontà da parte dell'allenatore di sedersi in una panchina importante e l'Ascoli comunque vuole scommettere su Cristian Bucchi vediamo quello che succede nelle prossime ore però in questo momento è l'allenatore più caldo per la panchina dell'Ascoli visto che comunque prenderà anche un'eredità importante come quella scelta da Sottile vediamo poi il lavoro che farà ma per il momento è lui il nome più caldo sulla Spal parecchie notizie la Mantia è un nome concreto l'ha detto anche Tacopina il presidente direttamente da New York ha detto ci servono attaccanti da 15 gol e la Mantia è uno dei profili che stiamo seguendo con maggior interesse e proveremo a prenderlo queste le parole del patron della Spal che vuole investire altri soldi anche quest'anno nel mercato estivo per cercare di costruire una Spal che raggiunga quanto meno almeno i playoff e quindi la Mantia è il primo obiettivo per quanto riguarda il reparto offensivo anche news su Pepito Rossi hanno detto più voci della dirigenza lo aspettiamo, vogliamo ottenerlo anche il prossimo anno in più una notizia ufficiale da parte della Spal chiuso praticamente l'acquisto e l'arrivo di Varnier da parte dell'Atalanta ragazzo giovane, interessante vediamo quello che riuscirà a fare il prossimo anno con la Spal di Venturato che vi ricordo confermatissimo in panchina però Varnier acquisto praticamente quasi ufficiale la Mantia, sondaggi in corso, contatti in corso vediamo se Tacopina riuscirà a portarlo a Ferrara Venezia si lavora anche in uscita dopo l'arrivo dell'allenatore Iavorcic c'è l'intenzione comunque di far partire qualche calciatore magari non contento di rimanere a Venezia uno potrebbe essere Henry che si c'è in un interessamento anche dalla Serie A c'è il Verona, come ha detto anche Gianluca Di Marzo due serie fa il Verona è pronto a investire su Henry, ha fatto i primi sondaggi vuole capire un attimo la situazione quanto chiede anche il Venezia per far partire l'attaccante francese che comunque ha fatto una buona stagione l'anno scorso in Serie A nonostante la retrocessione del Venezia però sembra anche che sia arrivata un'offerta da 12 milioni di euro dall'MLS fosse vera questa notizia che riportano più giornali per me Henry sarebbe più destinazione MLS visto che avrebbe un guadagno sicuramente maggiore anche il Venezia anche l'euro di ingaggio credo in MLS possono dare qualcosina di più ad Henry rispetto a un Verona però fossi Henry sceglierei tutta la vita il Verona e giocare in Serie A però c'è anche questa opzione concreta dei 12 milioni che potrebbero arrivare dall'MLS capitolo Ternana capitolo Parma per quanto riguarda il terzino sinistro si lavora Corrado di proprietà dell'Inter classe 2000 trattativa a buon punto come riporta il buon Alfredo Pedullà mentre per quanto riguarda la pista Nicolo Cambiaghi sembra molto molto più difficile da arrivare all'accordo con il ragazzo Nicolo Cambiaghi però Corrado terzino classe 2000 dell'Inter è una trattativa a buon punto sicuramente arriverebbe in prestito però è un nome ben caldo che nel prossimo anno si potrebbe addirittura chiudere la trattativa Parma idea Frabotta proprio c'è anche il Cagliari sappiamo che Frabotta è evoluto da molte scuole in Serie B la stagione è praticamente mai iniziata col Verona l'anno scorso a causa tantissimi infortuni c'è l'idea Parma che potrebbe prenderlo con vi ricordo l'arrivo di Pecchi in panchina dove potrebbe secondo me valorizzarlo parecchio al giovane terzino bianconero che però piace per l'appunto anche al Cagliari sempre al Cagliari vi ho detto della questione della Padula di Cosenza abbiamo parlato Brescia in arrivo due colpi in arrivo due colpi Garofalo dal Foggia e Karic dal Entella Karic è un bel giocatore segnato che potrebbe far bene il prossimo anno col Brescia in Serie B Garofalo sinceramente non lo conosco molto molto bene vi ho detto un po' di tutto ricapitolando Lora via da Cosenza Cagliari sondaggio per la Padula Brescia due colpi per l'appunto Garic e Garofalo su Tirol con Zaulin che in arrivo in panchina sulle Anzoline Aniclusica via De Grasse sono dei grandissimi obiettivi Ternana arriva a Corrado dall'Inter terzino sinistro classe 2000 Parma idea fra botta che proprio piace anche al Cagliari Cagliari che per l'appunto lavora alla Padula Venezia Henry piace sia a Verona ma anche all'estero pronti 12 milioni di euro dall'MLS Spal L'amantia è un grandissimo obiettivo dichiarato anche dal presidente Tacopina intanto in arrivo Vernier dall'Atalanta Ascoli per la panchina non più caldo e Bucchi e la regina è a rischio iscrizione per la prossima campionata di Serie B pollicione sul video iscrizione al canale noi ci becchiamo a un prossimo video bella ragazzi becchiamo 80 sch